Il progetto artistico che parte dalle parole si basa sul pensiero che esse abbiano un impatto nel corso di quello che è il nostro tempo. La parola assume un valore nonostante non siamo abituati a vederla fisicamente nella realtà. Sembra sempre che siano volatili, fugaci ed effimere L'utilizzo della parola all'interno di una mostra è per cercare di ridare invece un corpo a un elemento che si muove su un livello del reale che è semplicemente diverso da quello a cui siamo abituati. Non ha una contestazione all'interno del reale. Più che a chi rivolgermi in senso specifico ho pensato che potesse essere un rivolgersi quindi qualcosa che potesse essere per me, a me o per un'altra persona, da un'altra persona quindi sia come dedica a se stessi che ad un terzo.